Ma è l'ultimo ruolo di mercato per te particolare, con una cessione a Genova e poi il dirottamento di prestito alla Paganese? Cosa ti ha spettato a questa comandatura? Tu che sei un giovane e che hai la necessità anche di metterti in mostro e non ti da fuori? Allora innanzitutto sono molto contento di essere qui, abbiamo tutte le possibilità per fare bene. Sono stato nell'ultimo ruolo di mercato che il Genova mi ha compagato dalla Ternana e adesso sono qui a Paganese. Tu come hai fatto con questa comandatura? Che idee ti ha fatto? Siamo una scuola giovane, mi hanno accorto subito alla grande. Come ho detto prima, possiamo fare solo bene. E così dice spesso che i giovani provenienti da Napoli e provincia sono qualità che sono più forti a livello mentale. Tu sei cresciuto con la Frattese, poi sei andato a Terni, adesso c'è il contratto con Pescala, in una realtà come pagata. Che cosa ti aspetta questa sfida? Io voglio solo fare bene e realizzare per il più presto possibile la salvezza. Posto? Sto?